Salve a tutti amici, bentrovati da Stefano Ghetti. Si sta per aprire una delle fasi probabilmente più calde di quest'estate, soprattutto per il mese di agosto, quello sarà sicuramente certo, ma probabilmente a parte la fiammata intensa africana che ha interessato l'Italia nel mese di luglio, a cui ci sono stati anche dei record, ma questa che arriva sarà davvero una fiammata africana piuttosto importante, anche perché arriva in un periodo di solito dove l'estate comincia a dare importanti segnali di cedimento. Comunque nei prossimi giorni ci sarà davvero tanto caldo, l'anticiclone africano prende ulteriore energia, porterà tanto sole da nord a sud, forse qualche nota di incertezza all'estremo sud, questo per effetto di un timido vortice ciclonico in quote che si disturberà probabilmente un po' il tempo tra la Sicilia e l'area ionica, ma per il resto sarà una situazione votata al bel tempo, al sole e come dicevo assolutamente al tanto caldo, perché le temperature faranno registrare valori anche prossimi ai 40 gradi, se non addirittura leggermente superiori nelle zone interne della Sardegna, 38-39, forse 40 gradi anche nelle aree più interne del centro, e valori molto molto elevati comunque anche sulla Valpadana e come dicevo comunque anche un po' sul resto del paese, attenzione anche all'umidità, all'afa, al disagio bioclimatico che aumenteranno in maniera esponenziale, il caldo durerà probabilmente fino a tutto giovedì, poi sembra probabile tra venerdì e sabato un cambio di circolazione, qui potrebbe esserci anche una situazione diciamo piuttosto importante, con un cambiamento piuttosto deciso, ma di questo ovviamente ne riparleremo nei prossimi appuntamenti. Intanto mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, a più tardi.